Buongiorno a tutti, siamo quasi pronti per, come avuto, probabilmente già saprete, l'occasione è quella di, a parte di noi siamo al Vertona, di donare un defibrillatore al settore giornalista del Vertona. Ringraziamo le autorità che hanno potuto essere presenti, come il sindaco Garuti, l'assessore Galvani e il ministro Battuzzi. Quindi come società cooperativa, noi siamo al Vertona, abbiamo pensato a questa natale di raccogliere fondi per fare questo dono al settore giornalista del Vertona, un defibrillatore che permetterà di aumentare la sicurezza del campo sportivo per la zona.